OST 2019 ci troviamo allo stand di Gruppo Epta, un'azienda italiana composta da più divisioni del freddo e siamo in compagnia di Massimo Bravo, il responsabile commerciale della divisione Vending. Buongiorno e bentornato. Non mi occupo solo di Vending ovviamente ma di Oreca, di Bondoreca, quest'anno siamo presenti appunto a OST con uno stand molto importante, siamo presenti con i prodotti di ERP, quindi vetrine verticali professionali, prodotti per gelato mantecato e vetrine da bibite anche e con Misa, azienda leader nel settore della produzione di celle frigorifere. Alle nostre spalle abbiamo un monitor che rappresenta di fatto il perno principale del premio vinto per lo Smart Label, di cosa si tratta? Esatto, ERP Epta è un'azienda sempre sensibile un po' alla tecnologia, è sempre sensibile alla ricerca di novità e di innovazione. Il premio Smart Label ci ha permesso di essere riconosciuti come azienda che ha innovato nel mondo della refrigerazione. Su tutte le nostre attrezzature, su tutte le nostre vetrine possiamo installare un sistema IoT che ci permette di poter geocalizzare la vetrina, di analizzare le performance a livelli di vendita con le aperture porte, di controllarne i consumi, controllarne le temperature e di intervenire in caso di problematiche. Il futuro si trova qui? Il futuro si trova in ERP e in Epta. Massimo, oltre alla vetrina, al sistema di controllo remoto che è rappresentato con il monitor alle nostre spalle, che cos'altro avete presentato in questa occasione a OST 2019? Allora, a OST siamo presenti un po' con tutta la nostra gamma di prodotti dedicati al mondo delle gelaterie, quindi abbiamo sia prodotti per la vendita del gelato amantecato che i prodotti per la vendita del prodotto gelato tradizionale, quindi quello incartato. In questo modo siamo riusciti a dare una massima estremizzazione della personalizzazione dei prodotti, creando prodotti di varie gamme, di vari colori e dando modo al nostro cliente di poter scegliere come creare la propria vetrina. Senza dimenticare naturalmente le celle frigorifero che si trovano intorno, nel perimetro interno dello stand? Certo, le celle frigorifere, proprio quest'anno festeggiamo i 50 anni di un'azienda storica nella produzione di celle frigorifere, che è Misa, fa parte del gruppo ormai da 9 anni ed è un'azienda storica nella produzione di celle, sia a livello commerciale che a livello industriale. Un fiore all'occhiello del gruppo Epta. E per entrare in contatto dunque con la sezione commerciale del gruppo Epta, nel caso in cui chi guarda questa intervista fosse interessato a entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni, chissà, diventare vostro cliente o partner commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Info Epta EptaFrigeration.com Massimo, grazie per la collaborazione, ci vediamo alla prossima fiera. Grazie a te Fabio e a presto.